Passano i giorni, anzi i mesi, e Amina sta ancora più male. E' trattenuta in carcere in Kazaki, standa giugno. E nonostante ci siano prove schiaccianti che la rendono estranea dall'accusa di traffico internazionale di droga, la situazione non cambia. Amina è ancora lì e non sta bene. Paura, paura che da questa situazione non possa venirne fuori. Perché sono passati cinque mesi, non è passato poco. E comunque la situazione si sblocca, e comunque ci sono dei rinvii, per cui è molto depressa. Amina poi ha subito delle violenze. Amina durante questo periodo, sì, ha subito dei maltrattamenti fisici e psicologici. C'è stato anche un tentativo di violenza. Fortunatamente è riuscito a difendersi, insomma, non è andato a buon fine, voglio dire, secondo le loro, diciamo, prospettive, insomma. E niente. Ma lei ha tentato anche di togliersi la vita? Quindi sì, per ben due volte ha tentato di fare qualche sciocchezza, insomma. Al momento lì c'è la sua mamma, che ogni giorno riesce a vedere per pochi minuti. Amina è vista soltanto da mia moglie, diciamo quasi tutti i giorni, perché mia moglie per 15 minuti circa al massimo di visita. Mia moglie ogni giorno deve fare una via crucis, diciamo così, nel senso che la mattina si sveglia all'alba, va presso la struttura carceraria, prende il numerino per portare del cibo, degli alimenti, acqua, perché le condizioni della struttura sono molto fatiscenti. Quanto le manca a Mina? A Mina mi manca, mi manca la vita di prima, mi manca tutto. Cioè, francamente, siamo entrati in un incubo e speriamo di venire fuori quanto prima. Ma ci racconti, com'era Amina? Com'era questa ragazza di 18 anni? Ma Amina era molto timida, era una ragazza tranquilla, molto delicata, introversa un pochettino. Per cui, cioè, io non riesco assolutamente a immaginare questo che sta succedendo, perché è una cosa più grande di lei, ma molto, molto, molto più grande di lei. Qual è l'appello che oggi si sentirebbe di fare? Ma l'appello innanzitutto di... cioè, di darci una mano per cercare di portare a Mina in Italia, perché è questo, soprattutto in questo momento, la situazione fondamentale, principale, che ripeto, a Mina sta male. Quindi non so quanto tempo ancora lei riuscirà a reggere questa situazione. Papa Sarge è molto preoccupato per sua figlia, ma al tempo stesso ringrazia tutti coloro che si stanno interessando a questo caso, come la dottoressa Mimma Antonaci, e ora attende solo una svolta magari il prossimo 9 novembre, giorno in cui dovrebbe scadere la detenzione di Amina. Di fatto, diciamo, ci sono dei prolungamenti continui. Il primo prolungamento è stato di due mesi, quindi praticamente fino a settembre, il 2 settembre, dovevano decidere. Poi dal 2 settembre hanno prolungato all'11 di ottobre e poi dall'11 di ottobre hanno prolungato al 9 di novembre. Per cui io ho seri dubbi che il 9 di novembre si possa decidere il tutto, francamente.